Un turismo che stenta e in netta controtendenza rispetto alle stati passate. Fabrizio Oliva, presidente di Federalberghi, fotografa in questo modo la peseroturistica versione estiva 2023. Alle parole del prossimo candidato alle amministrative, che ha rimarcato il calo di affluenze del 30% per giugno e del 20% per il mese di luglio, in occasione dell'inaugurazione della rotatoria sulle silicate, è seguito l'intervento del sindaco Ricci, che pare avere una prospettiva completamente differente. C'è tantissima gente in giro, negli eventi, al mare, in centro, a Baia e Flaminia, anche in giro per la provincia, quindi mi sembra un'estate molto buona e del resto basta provare a telefonare a qualche hotel o a qualche bed and breakfast, difficilmente si riesce a trovare una camera libera, quindi siamo soddisfatti, poi ovviamente i conti si faranno alla fine, ma credo che sarà complessivamente un'ottima estate. Insomma, due visioni opposte che hanno fatto storcere nuovamente il naso al presidente di Federalberghi, che tiene a sottolineare come i dati da lui annunciati sul calo del turismo in città siano stati rilevati da una società incaricata dallo stesso comune di Pesaro. Gli imprenditori invece guardano la concretezza, effettivamente voglio dire c'è stato un calo di presenza nella nostra città, ma non solo c'è una ricaduta, anche su tutte le attività collaterali, quindi gelaterie, ristoranti e tutte le cose che si riconducono al turismo. La causa sicuramente è la crisi economica, perché effettivamente bisogna parlare di crisi economica. Oggi una famiglia mediamente se è un mutuo si trova a pagare con un piccolo mutuo 4-500 euro in più, quindi si trova a preventivare una spesa di 5-6 mila euro in più nell'anno. Prudenzialmente, in attesa che i tempi migliorano, molto probabilmente quel target di famiglie medie che veniva da noi in vacanza, rinuncia alla vacanza. Previsioni invece per il mese di agosto? Guardi, per il primo anno siamo al 2 di agosto, molti alberghi hanno il tutto esaurito, così non è. Per il primo anno c'è una forte preoccupazione anche per il mese di agosto, e quindi direi che anche da parte della politica vanno fatte analisi molto più concrete. Il turismo sarà il piatto caldo nell'anno 2024, quando Pesaro sarà capitale italiana della cultura, appuntamento al quale gli alberghi cittadini si presentano con un'offerta rinnovata. La stragrande maggioranza degli alberghi, al di là della struttura esterna, hanno rinnovato, hanno fatto dei lavori di miglioramento, quindi molti sono pronti per accogliere i turisti anche in una nuova veste. Altri faranno altri investimenti nel corso dell'inverno per poter fare una bella stagione con le strutture anche a posto. L'accoglienza, voglio dire, noi albergatori anche come associazione siamo a piena disposizione per poter fare iniziativa, siamo il comune per far sì che il 2024 sia l'anno della svolta per il turismo.